Se la violenza continuerà, l'unica cosa che noi dovremmo fare è eliminarla attraverso azioni legali e di contrasto. La governatrice di Hong Kong, Carrie Lam, ha parlato per la prima volta dopo gli scontri di domenica nei quali la polizia ha usato i dranti e lacrimogeni sparando anche un colpo di pistola per fermare i manifestanti armati di mattoni e bottiglie Moltov. Un discorso in cui ha sottolineato che il suo governo ha la situazione sotto controllo e ha escluso le sue dimissioni nonostante le critiche per la gestione delle proteste sempre più intense nei prossimi giorni e settimane. Sono in programma altre manifestazioni in una sfida diretta al governo di Pechino che vorrebbe invece accalmare le acque entro il settantesimo anniversario della Fondazione della Repubblica Popolare Cinese il 1 ottobre.